Ciao a tutti, benvenuti in questo canale di Assunti di Storia. Io sono Gio Lucaim e studio Scienze Storiche all'Università di Torino e oggi andiamo con il nostro nono appuntamento sulla storia della democrazia americana da George Washington a Trump. Siamo arrivati agli anni Sessanta e arriviamo al 1961 con l'inizio della presidenza Kennedy. Il presidente Kennedy, il primo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti, che arriva dal Partito Democratico, quindi di quella corrente liberal che ha incarnato lo spirito di questo partito fin all'inizio degli anni Trenta con la presidenza Roosevelt. La storia di questo presidente si interseca fin da subito con la storia della democrazia americana per la sua grande vittoria elettorale che è stata più che altro una grande vittoria televisiva. Infatti lo storico scontro televisivo tra Kennedy e il suo rivale repubblicano Nixon è per Sartori in questo importantissimo libro di Giovanni Sartori, Homo Svidens del 1997, l'inizio della videopolitica, ma di questo andremo poi a parlarne alla fine. È importante sottolineare come questo cambiamento, questo scontro politico cambia per sempre le sorti della politica internazionale. Infatti se i contenuti dei due presidenti, dei due partiti, possiamo dire, erano vero o male gli stessi, non si discostavano più di tanto nei fatti, Kennedy riuscì a vincere a danno il suo rivale perché risultò una persona che riuscì a bucare lo schermo, si rivolse direttamente alla nazione dando un senso di sicurezza. Invece il suo rivale Nixon, esausto per la dura campagna elettorale che aveva affrontato fino a quel momento, si concentrò solamente ad evidenziare i punti di contrasto con il suo avversario, quindi dimostrandosi insicuro. Come appena detto, Kennedy riuscì, il primo fra tutti, riuscì anche rispetto al suo rivale Nixon a bucare lo schermo, a entrare dentro i cuori dei suoi elettori e questo gli permise la grande vittoria elettorale. Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi, ma che cosa voi potete fare per il vostro paese. Con questo celebre discorso di insediamento inizia la presidenza Kennedy, una presidenza ricca di speranze e di ottimismo per il futuro. Infatti Kennedy, come anche il suo fratello, sono stati accostati anche nella storia ai fratelli Grasso, ai fratelli riformatori della Repubblica Romana. E questo perché la politica dei Kennedy, almeno a livello ideologico, a livello di mito, vive di questo spirito di filantropia, questo desiderio di giustizia sociale. Infatti lo slogan della campagna politica, della campagna elettorale di Kennedy era quello della nuova frontiera. Ma se dobbiamo essere cattivi, era visto fino in fondo, vediamo che la politica Kennedy per quei pochi anni, che dobbiamo anche dirlo, che è stata fatta, è un ritorno sostanzialmente alla grande politica liberal democratica degli anni 30, quindi una concezione tecnocratica del potere. In questo senso il personale amministrativo doveva essere arruolato tra i grandi professionisti, sia nel campo delle scienze sociali, sia anche nel campo dell'ingegneria. I grandi accademici dovevano presiedere come consiglieri del presidente. E non solo questo, che fin qua sarebbe tutto quanto positivo, ma un ritorno nel senso pratico alla politica di Roosevelt, quindi a questa grande unione tra gli interessi delle grandi corporation, delle grandi imprese e il potere federale centrale. Per approfondire questo discorso andate a rivedervi la storia americana degli anni 30, dove approfondisco il New Deal di Delano Roosevelt. Ebbene, la politica di Kennedy si tradusse sostanzialmente in uno stimolo delle imprese, quindi uno stimolo fiscale per accentrare i grandi investimenti. L'idea centrale di questo periodo è la famosa tecnostruttura, ovvero una società pianificata. Non bisognava più lasciare che la società fosse in balia del libero mercato e quindi del pensiero classico liberare dell'Ottocento, ma l'imperativo era di tecnologia ed organizzazione. In particolare le basi del sistema economico dovevano essere la crescita, la stabilità dei prezzi e dei salari, quindi questo portare una pace sociale, un benessere, uno sviluppo della classe media che già precedentemente i successori, sia Truman che Eisenhower, avevano favorito lo stimolo di questa classe media come antidoto per la paura del comunismo. Far crescere una forte classe media voleva dire creare un forte consenso, ma non solo, creare anche una forte, incentivare anche l'istruzione, la ricerca e non a caso abbiamo con Kennedy che gli Stati Uniti si iniziano la grande corsa che le porterà sulla luna. Inizia tutto dalla grande amministrazione Kennedy, famosissimo, trovate in tutti i documentari il discorso che ha fatto il presidente per incentivare la corsa sulla luna. Ebbene, nella realtà dei fatti quindi questa fu una rivoluzione dall'alto, che segue anche la grande onda del pensiero progressista, prima di Wilson e prima di Roosevelt. Quel che effettivamente viene meno dalle grandi promesse della nuova frontiera, della campagna elettorale, sono il tema dei diritti civili, Kennedy, da buone democratico e quindi consapevole che dell'appoggio che aveva il suo partito nel sud degli Stati Uniti, fu sempre assai molto cauto riguardo ai temi dei diritti civili. Per il tema della politica estera vediamo un impegno maggiore degli Stati Uniti. Se nella precedente presidenza del presidente Eisenhower, ex generale vittorioso della seconda guerra mondiale, abbiamo visto gli Stati Uniti stare un momento, possiamo dirlo, di fermo, di stare a guardare, di concentrarsi sulla loro posizione, sulla loro egemonia, egemonica, geografica e politica, vediamo un intervento più incisivo che Kennedy, da buon cattolico, dà alla politica. Infatti vediamo gli Stati Uniti che si impegnano in prima persona con aiuti dall'America Latina, e questi aiuti vogliono dire non favorire formarsi di Stati filocomunisti, è un impegno proprio diretto anticomunisti. Prima tra tutti non si può non ricordare la crisi del cubo del 61 con il fallimento dello sbarco nella baglia dei porci, il quale la presidenza Kennedy voleva favorire un ritorno del regime dei fedeli, del regime di Battista. Ricordiamo che Cuba era caduta nelle mani di Fidel Castro, che ancora in questo momento non si era pienamente schierato se dalla parte dei comunisti o dalla parte americana, ma con questo fatto, con questa crisi, con questo fallimento della baglia dei porci, Kennedy lancia nelle braccia dell'Unione Sovietica Fidel Castro. E qua infatti ci colleghiamo al secondo anno di questa grande crisi, la crisi missilistica del 62 di Cuba, la quale quest'isola che stava di fronte agli Stati Uniti poteva diventare una seria minaccia. Infatti l'Unione Sovietica voleva portare delle basi missilistiche nucleari che potevano colpire direttamente gli Stati Uniti. La grande forza degli Stati Uniti è che questo immenso paese circondato dai due grandi oceani del nostro pianeta era di fatto impossibile un attacco diretto, l'unico attacco diretto era sul confine messicano, ma gli Stati Uniti avevano un forte controllo di quella zona e anche dello Stato del Messico. Cuba, diventando filo comunista, era una grave minaccia. Per fortuna la crisi missilistica cessò con il ritiro dei missili dell'Unione Sovietica a Cuba e altrettanto un ritiro dei potenziali missili, delle basi missilistiche che potevano essere messe nel suolo italiano e nella Turchia. E quindi per fortuna, non è mai troppo ricordarlo, si è evitato una possibile terza guerra mondiale, ma bensì una guerra nucleare. E questo possiamo anche dire ricordandoci al nostro video sulla presidenza Truman, alla fine della seconda guerra mondiale, quello che è stato il grande shock dell'era nucleare, delle due grandi bombe atomiche. Come si è evitato il lancio di armi nucleari durante la guerra di Corea? Anche adesso vediamo che la coscienza, che è ancora molto fresca, delle guerre mondiali ha per fortuna evitato una guerra mondiale. Questo possiamo dirlo una fonte di progresso. Ma la tensione aumenta infatti è il 13 di agosto, che nel 61 il muro di Berlino viene eretto. Quindi vedete la tensione di questi due blocchi come si è venuta a contrapporsi, come è forte, come si sente. L'Unione Sovietica vuole chiudere Berlino, sì, ovest, la vuole chiudere da ogni possibile contatto con il resto dell'Occidente e vuole anche impedire che i suoi stessi cittadini di Berlino Est vadano a rifugiarsi nella parte occidentale. Un'ultima cosa è bene ricordare che l'amministrazione Kennedy è la responsabile dell'entrata in guerra dei Stati Uniti nel Vietnam, che avrà nel 63. Di fatto il grande contingente avrà solo nel 64 con un'altra amministrazione, ma è con Kennedy che gli Stati Uniti si impegnano. Quindi è grazie a Kennedy che gli Stati Uniti entreranno in quella lunga e sanguinosa e storica guerra che segnerà il, possiamo dirlo, il destino, segnerà profondamente la storia degli Stati Uniti. La fine cruenta segnerà la fine della presidenza Kennedy, come tutti voi sapete. Il 22 di novembre del 63 a Dallas il presidente Kennedy viene assassinato, forse il secondo assassinio più clamoroso della storia del novecento. Prima solo l'attentato di Sarajevo del 14, questo attentato che ancora oggi rimane misterioso. I gomblottisti sono ricchi e felici, possono trarre qualsiasi spunto. Voglio ricordarlo, uno c'è chi parla anche di mafia, c'è chi parla di Unione Sovietica. I più grandi ipotizzano che a sparare dall'edificio non è stato effettivamente l'assassino riconosciuto dalle autorità e successivamente morto in una circostanza alquanto anche egli è taltanto violenta. Questi complottisti vedono addirittura, pensano ci sia stata addirittura Elvis Presley, ma lasciamo stare questi favolosi pensieri. Quello che a noi interessa è che con la morte cruente e inaspettata del presidente Kennedy, un sogno di fatto scompare, la speranza, l'ottimismo che aveva animato gli Stati Uniti per questo grande senso di giustizia sociale volge alla fine. E il vice presidente, il democratico vecchio stampo Lyndon Johnson, da vice presidente passa di fatto automaticamente a presidente. Come appena detto, Johnson fa parte del partito democratico, è un conservatorio del sud vecchio stampo che ha sempre vissuta nell'ombra dell'amministrazione Kennedy e molto probabilmente gli storici suppongono che se Kennedy non fosse morto e fosse stato rieletto una seconda volta, molto probabilmente Johnson non avrebbe più fatto parte della sua amministrazione. Quindi, arrivando nel 63, di soprassalto alla presidenza, deve dare tutto se stesso per poter essere rieletto nelle elezioni che ci saranno nel 65. E adesso andiamo a vedere quali sono i suoi strumenti, qual è la sua politica che gli permetterà di essere rieletto nel 65. Ebbene, se vogliamo essere cattivi e realisti fino in fondo, vediamo che il presidente Johnson, se vuole essere rieletto, deve puntare sulle carte nelle quali il presidente Kennedy non è riuscito ad arrivare fino in fondo, le ha lasciate per ultime. E quali sono? Sono esattamente quelle della giustizia sociale, quelle che lo hanno permesso di vincere, l'hanno reso famoso e hanno costruito il grande mito di Kennedy e anche dei fratelli Kennedy. E quindi si impegna per un progetto di giustizia sociale di benessere diffuso. Ebbene, ricordiamo ancora una volta, lui, un grande conservatore del Sud e del Partito Democratico, il partito che nella guerra civile di cent'anni prima era a favore del Sud, era a favore della schiavitù, quindi questi democratici si impegna nel 64, con la famosa Civil Rights Act, alla illegalità di ogni discriminazione razziale. Questo è un fatto epocale che noi ancora oggi vediamo le conseguenze perché abbiamo la storica rottura del Sud, degli Stati del Sud e degli Stati Uniti con il Partito Democratico. Da questo momento il legame si spezza e di fatto Johnson lascia e manda i Stati del Sud nelle braccia dei repubblicani che ancora adesso sono un forte bacino per questo partito. Le ragioni sono sia un uso, se abbiamo spregiudicato, di Johnson, sono la sua carta vincente per le elezioni e così sarà. È la carta dove puntare, dove Kennedy non ha ancora fatto ed è il suo punto forte, ma un altro aspetto è che la segregazione diventa difficile da spiegare in politica estera, ora che i guerrafri degli Stati Uniti si vendono e si lanciano all'intero mondo come la patria della libertà e delle uguaglianze. Ebbene, come voi tutti sapete, immaginate, è difficile per questo Stato libero e uguale spiegare al mondo esterno, ma anche all'interno del mondo interno per i suoi circoli intellettuali, la segregazione. Ebbene, non solo di segregazione, parliamo anche di guerra alla povertà e nel 65, Presidente Johnson inizia una politica di welfare per i cittadini di reddito basso, gli Stati Uniti che sono sempre stati un paese fortemente individualista, iniziano anche loro una politica di welfare. Invece, parlando di politica estera, nel 64 abbiamo effettivamente un ingresso considerevole di truppe americani nella guerra del Vietnam, possiamo dire che inizia di fatto adesso nel 64 per gli Stati Uniti, questa guerra che termina solo nel 75. Bene, vediamo anche che nel 67 gli Stati Uniti che appoggiano Israele nella famosa guerra dei sei giorni, nella quale in soli sei giorni lo Stato di Israele riesce a sconfiggere l'intera coalizione araba guidata dall'Egitto ma appoggiata dall'Unione Sovietica. In questo stesso periodo avvengono le grandi dimostrazioni, le grandi lotte per l'emancipazione degli afroamericani, ma per questo vi rimando al video precedente nel quale l'ho trattato. Ebbene, parlando sempre di cultura, questi aspetti, queste rimedicazioni degli afroamericani hanno un'influenza profonda nella musica, e sto parlando del jazz. Infatti negli anni 60, se i bianchi hanno incoronato, sono entrati nell'olimpo del jazz attraverso il cool jazz, ma parliamo, non erano solo bianchi, perché Miles Davis era tutto, tranne che una persona bianca, un grande esponente del cool jazz, se vogliamo, tra i grandi fondatori. Ebbene, l'hard bap è la risposta degli afroamericani a questo jazz suonato a ottimi livelli da bianchi, quindi è un ritorno al jazz nero che ha profonde influenze nel bebop, nel blues, nel gospel, ma soprattutto un ritorno, un grande uso di inediti che nel bebop non era molto usato. E si sente una profonda rimedicazione dei diritti e anche una islamizzazione, ricordatevi il nostro discorso del nostro video precedente su Malcolm X. Ebbene, anche in questo caso il camaleontico Miles Davis ha un ruolo di tutto piano, se nel 59 sforna il miglior album del cool jazz, è anche l'album più venduto nella storia del jazz, sto parlando di Card of Blue, tra il 59 e il 60 fa uscire quell'album che veramente ha portato un gradino ancora superiore nella storia del jazz. Come ho detto precedentemente, nel scorso video sono jazzisti che suono musica bianca, portano il jazz a dei gradini, che neanche di più che era arrivato, ma di Miles Davis vi parlerò in un video dedicato solo per lui. Vediamo che negli anni 60 Miles Davis si dedica all'hard bop e si può sentire tutta la differenza, la spigolosità, la durezza in un album del 67 e del 68, quindi quasi dieci anni dopo, Kind of Blue che è l'album Nefertiti, qua si sente profondamente che cos'è l'hard bop. E in questo periodo degli anni 60 è lo storico quintetto hard bop di Miles Davis, nella quale ci hanno suonato i più grandi musicisti del jazz di tutti i tempi, sto parlando, abbiamo Herbie Anko al piano, Tolly Williams alla batteria, Ron Carter al contrabbasso e Shorter al saxofono, piano, quindi immaginate che cosa non è a questo storico quintetto, ma tralasciando Miles Davis, ho citato Kind of Blue, non si può parlare, che ho parlato anche nello scorso video, parlando col jazz di Bill Evans, questo grandissimo pianista che rompe gli schemi e porta due grandi innovazioni, la prima, quello che ho già citato, nel piano less, ovvero questo modo tipico di suonare che inventa Bill Evans pianistico, dove il piano non raddoppia le toniche delle note basse, quello è un ruolo che lo lascia completamente al basso, e infatti si sente particolare nel sound di Bill Evans questo piano che evola, che dà atmosfera, ed caratterizza profondamente lo stile musicale di Bill Evans che è profondamente rilassante, a un grandissimo contrabbassista Bill Evans che è l'italo-americano Scott Lafaro. Ebbene, questo modo di suonare, questo piano less diventa una costante di tutti quanti i musicisti fino a noi, fino ai gestisti di oggi. Questo piano less favorisce anche un altro fattore jazz, del jazz moderno, ovvero l'interplay, ovvero nel suonare insieme, non è fare solo una cosa individuale, ma suonare tutti quanti, sentirsi mentre si suona, fare un lavoro di gruppo, questo ovviamente non è che lo inventano adesso negli anni 60, negli anni 50, ero già presente, l'interplay lo possiamo già trovare ancora, possiamo già trovarlo a Mostro con Ela Tilgero, o nell'orchestra di Dio Kemento, ma in questa costante adesso diventa una costante. Bill Evans lo possiamo contrapporre ad Oscar Peterson, un grandissimo pianista di questo periodo, che è un pianista a rebapo, ma un grandissimo pianista a bughe, che ha le sue origini sia nel bughe che nel gospel, e forma questo suo stile unico. Si vede profondamente a differenza di questi due pianisti. Se abbiamo detto che Bill Evans ha un modo di suonare ereterio, il piano fluttua, ebbene, vediamo a Oscar Peterson, il suo sound è molto più incisivo, ha una ritmica molto più tagliente, e si sente. Un altro grande di questo periodo è Charles Mingus, un grandissimo contrabassista, il quale riesce a dirigere il suo quartetto, il suo quintetto, suonando il contrabbasso, creando un ottimo sincretismo tra lui e il batterista, rischia un ancre a rompere e creare una sorta di improvvisazione anche nel tempo. Infatti, a seconda del momento, questi due grandi musicisti si intuiscono e cambiano il tempo, il ritmo sottostante lo accelano, lo diminuiscono. E quindi, vediamo che anche il tempo, la costante di tempo, viene messa in discussione. Voglio dire, sto parlando di ritmo, non di tempo. Ovviamente, il timing soft è sempre lo stesso, vanno a tempo, però il ritmo cambia. Charles Mingus, oltre ad essere un famoso e ottimo contrabassista, è anche un ottimo compositore, perché abbiamo detto che l'artbap si caratterizza per gli inediti. Infatti, troviamo soprattutto in Charles Mingus la grande ricerca nei finali, che erano sempre stati assenti nella storia del jazz. Parlando di islamizzazione, di questi musicisti, che per loro immedicazioni, i loro diritti, si sentono più affini alla religione islamica, che viene a formarsi in quel periodo, una corrente islamica negli Stati Uniti, gli afroamericani, vi rimando sempre a Malcolm X. La si può citare, per il mio gusto personale, Yusef Latif, che è sempre un famoso e brevissimo musicista hardbap di questo periodo. Ma lo vero spirito di lotte degli afroamericani, nella musica che la troviamo nel free jazz, una musica, possiamo dirlo, totalmente rivoluzionaria, incarnata dal grandissimo musicista Ornette Coleman. E vediamo che la sua musica è ricca di timbri acidi, quindi che danno fastidio all'ascolto. Non è una musica per rilassare, non è una musica per far godere, far rilassare l'uomo bianco, ma è una musica di lotta, dove i temi soli si intrecciano, si confondono. Una canzone può iniziare già con un solo, dove abbiamo un'esagerazione del playing in e playing out, questo suonare dentro e fuori le tonalità, una musica con continua e modulazione, quindi dove l'orecchio non capisce dove stiamo andando, dove vuole andare a parare. Quindi per questo Ornette Coleman è stato sempre molto criticato e giudicato male come un musicista che non sapeva suonare in tonalità. Ebbene, il suo grandissimo contrabassista, non possiamo citare Charlie Eden, che l'ha retto sempre, l'ha coccolato, l'ha cullato, gli ha permesso di fare tutto quello che faceva lui, perché c'era un contrabassista come lui, che, possiamo dirlo, lo parava dovunque egli andasse. Charlie Eden, successivamente, poi negli anni 90-2000, mi ricordo bene, farà un bellissimo album con Pat Metini, sarà la conola sonora del famosissimo film Cinema Paradiso, vera consiglio dove si sente tutta la magnificenza di questo grandissimo contrabassista. E infine, ad accogliere la grande eredità rivoluzionaria di Ornette Coleman, non possiamo citare l'ultimo grande sassofonista, ma forse esagerato di dire così, comunque un grandissimo sassofonista della storia, che è Coltrane. Coltrane, che riprende dalle grandi tradizioni del blues, fa un album dedicato totalmente al blues, alle origini, ma vediamo che riprende anche la grande tradizione del free jazz, di quello dell'innovazione, dell'art bap, Coltrane, che anche lui esce dalle file di Miles Davis, nel Land of Kind of Blue, il sax è lui. Ebbene, porta avanti ancora lo studio della musica, del jazz, lo porta avanti, porta avanti lo studio dell'armonia con i famosi Coltrane Changes, che prendendo dalla musica ormai tardo-romantica, tardo-classica, dalla fine dell'Ottocento, di Ravel, inventa queste, inventa, prende queste progressioni armoniche che si spostano per centri tonali di terze maggiori. Questo è un discorso fatto per gli specialisti del settore. Ma non ci soffermiamo troppo. La cosa importante da dire è che si ha l'impressione che con la morte di Coltrane, che avviene nel 67, una morte causata che ormai è un fegato che non riesce più, un fegato totalmente spappolato da l'eroina, che era dipendente, non solo lui, ma altri jazzisti. E questa è anche una caratteristica di questa muse, questa piega sociale, che è l'eroina, che ha piegato intergenerazioni, negli anni 50, 60, 70 e anche oltre. Ma in questo periodo, dove gli afromeccani soffrono della forte segregazione razziale, si vede che molti musicisti, e non solo musicisti, cercano un rifugio in questa gabbia mortale. Ebbene, con la sua morte, i puristi del jazz vedono la fine ormai del jazz. Infatti, sarà nel 69, Miles Davis con l'album Bicif a Brew, possiamo dire, ci sarà lo scisma, la frantumazione, il jazz non sarà mai più lo stesso, perché si apre a sonorità nuove, si apre al mondo del rock, ma noi qui ci fermiamo con il 67, con la morte di Coltrane, l'ultimo grande pietra miliare, per alcuni, ovviamente, della storia del jazz. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra chiacchierata, e come ogni chiacchierata vi svelo le mie fonti, sulle quali ho costruito la mia idea. Per quanto riguarda la videopolitica, abbiamo questo famosissimo libro, di questo politologo nostrano, di livello internazionale, Giovanni Sartori, il quale in questo libro, che è datato nel 97, ci parla della videopolitica, questo è un libro fortemente critico, un libro apocalittico addirittura, nella quale si vede un'evoluzione antropologica dell'uomo, il quale per secoli, sempre millenni, sempre stato un uomo fortemente razionale, un uomo con il logos, ebbene, diventa un uomo video, ovvero un uomo che ha ragione solo più per immagine, questo è dovuto dalla televisione, diventa un grande bamboccione, il quale crede poi a tutto quello che vede. Se vi sembra pessimistico, ricordatevi che è scritto nel 97, il quale Sartori ha solamente visto, nel 94, la grande elezione che c'è stata in Italia del primo governo Berlusconi, con Berlusconi, con il controllo di sue televisioni private, ha bombardato gli italiani e gli ha permesso anche di vincere. Non ha visto tutto il del 97, non ha visto l'era internet, non ha visto l'era del blog, non ha visto l'era del grillismo e dei 5 stelle. Quindi, se vogliamo, se pensate che sia una situazione negativa, bene, è ancora peggio. Per quanto invece riguarda sempre il jazz, vi consiglio, ho sempre preso spunto da questo libro, Storia del Jazz, Ted Gioia, sponsorizzato da Siana Jazz, la più grande scuola di jazz, a livello italiano. Ma, per farvi un'idea concreta, un'idea che sonora, una spiegazione migliore, quindi, della mia, vi lascerò sotto in descrizione un link in quale potete trovare un'altra playlist di YouTube dove avete delle spiegazioni migliori della mia, ma soprattutto un supporto sonoro che, se si parla di musica, a mio avviso, è indispensabile. Per quanto riguarda sempre la storia degli Stati Uniti, c'è questo libro di Giovanni Borgoglione, Storia degli Stati Uniti, edito da Feltrinelli. E con questo io vi saluto, rimaniamo alla prossima, spero di avervi annoiato, ma non vorrò.